Adesso cambiamo argomento. Lui di premi ne ha ricevuti davvero tanti in 40 anni di professione, però non ci si abitua mai ai riconoscimenti, anche perché fanno molto molto piacere. Sto parlando di Marco Verba, uno dei compositori e direttori d'orchestra più apprezzati a livello internazionale in collegamento da Roma. Marco, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie Francesca, buongiorno. È un grande piacere vederti almeno qui a distanza in collegamento. Spero di poterti riabbracciare un giorno di persona. Hai ricevuto, l'ho detto, nel presentarti tanti premi. Parliamo almeno degli ultimi in ordine cronologico, Marco, perché non avremmo il tempo materiale. Leone d'argento alla garriera, premio Stelvio Cipriani, premio Milano Golden Fashion, premio Amici Diana Magnani, premio Sergio Pastore. Insomma, raccontaci. Ma guarda, è stata una coincidenza che ho vinto praticamente due premi nello stesso, no, tre premi nello stesso mese. La prima volta che mi capita in 40 anni, tre premi nello stesso mese e qualche mese prima il premio alla carriera che ho ricevuto durante il Narnia Festival, che è un festival di musica classica organizzata dalla pianista Cristiana Pecoraro. E ogni anno consegnano un premio a un compositore, un pianista, un direttore d'orchestra che ha lavorato o nel campo della musica classica o in questo caso nel campo delle colonne sonore. Tu scrivi colonne sonore pensate da 40 anni. Ecco, che cosa ti ha permesso tutto ciò, questa esperienza in questo campo? Io invito sempre a immaginarci una pellicola, per quanto valida possa essere, come sceneggiatura, come immagini, ma senza la colonna sonora. Che differenza farebbe? Come sembrerebbe Monca? Ecco, raccontaci, questa esperienza lunga 40 anni, quindi hai vissuto anche un po' tutto l'iter musicale, il panorama che credo sia cambiato, la tecnologia, Marco, che in qualche modo ha cambiato anche le modalità, penso, giusto? Hai ragione Francesco, quando io ho fatto la mia prima colonna sonora, che era ZO di Cristina Comincini con Asia Argento, aveva 14 anni, pensa, non usavo ancora il computer. E quindi praticamente ho realizzato tutta la partitura come si faceva una volta, scrivendo su carta. Qualche anno dopo ho iniziato anche a usare il computer, perché chiaramente è molto pratico e utile, però a differenza dei compositori di musica leggera o dei giovani che usano il computer suonando la musica, io scrivo la partitura nel computer come se la stessi scrivendo su carta. Quindi in realtà non è cambiato molto per me, ma è più pratico avere le note dentro il computer per poter realizzare un demo da far ascoltare al regista e per stampare le parti per l'orchestra. Quindi è meglio lavorare al computer in questo senso. Io ho iniziato proprio con i film di Cristina Comincini, in realtà io volevo fare il regista. A 14-15 anni avevo questo sogno di fare la regia, quindi il cinema è stato il primo amore, e realizzai anche tre cortometraggi in Superhot, con lo pseudonimo di Kronos Lind, Kronos il Dio greco, Lind la cioccolata, quindi uno strano mix. Poi andai con mio padre che era un giornalista americano, il giornale Variety, era corrispondente da Roma, prima era da Madrid, poi ci siamo trasferiti a Roma, e andammo a vedere un film di fantascienza molto bello, che si chiama La fuga di Logan di Michael Anderson del 77, con Michael York e Jennifer Agutter, e con le musiche del premio Oscar Jerry Goldsmith, che poi ho avuto il piacere di conoscere. La prima volta che vedi il film non mi resi conto del commento musicale, come la maggior parte del pubblico che assiste alla proiezione di un film. Dopo averlo rivisto una seconda, una terza volta, mi resi conto che la musica era straordinaria, e da lì è nata la passione e il desiderio di diventare un compositore di musica per il cinema, è quello che ho fatto. Ma pensi, io non sapevo di questo aneddoto, perché il sogno nel cassetto all'inizio fosse un altro, mi hai svelato un qualcosa che è completamente nuovo anche per me Marco, io credo che come nella moda, tra l'altro ne parleremo con la prossima ospite, che vive di varietà di vestiti, di colori, di tessuti, ci sia anche in qualche modo nella musica una varietà di linguaggi, di sensazioni, tu da dove trai ispirazione di solito? Guarda, quando si tratta di film, di cinema, chiaramente l'ispirazione viene o dalla trama del film, o dal film stesso, dalla recitazione degli attori, dalle luci, dall'inquadratura, l'ispirazione viene dalle immagini. Quando non hanno ancora girato il film, ci si deve basare per forza sulla sceneggiatura. E si possono scrivere dei temi musicali, ma finché non si hanno le immagini davanti, è difficile capire se quei temi musicali funzioneranno effettivamente nel film. Questo è il punto, insomma. Quindi occorre necessariamente visionare le immagini, da lì poi nascono le note. Non può essere assolutamente il contrario. Tu tieni tra l'altro diverse masterclass sulla musica applicata, Marco. Che cos'è le persone che vi partecipano, che ti chiedono di più? Qual è la domanda, o come dire l'esigenza più comune che riscontri nella tua platea di persone davanti? Beh, questa è una bella domanda. Guarda, la maggior parte degli allievi che si iscrivono alle masterclass, ovviamente, si iscrivono nella speranza di trovare poi uno sbocco professionale. E quindi mi chiedono consiglio su come fare per inserirsi nell'ambiente. Io il consiglio che do è di scrivere musee per cortometraggi. Di solito si inizia così. Oppure di fare l'assistente di un compositore affermato, perché poi magari ci sarà l'occasione che il compositore sarà impegnato in un altro film e lascerà spazio al suo assistente per scrivere la musica al posto suo. E questo è successo, per esempio, al compositore francese, in realtà è rumeno, ma che vive a Parigi ormai è francese, Vladimir Cosma, che era assistente di Michel Legron, autore di canzoni, autore anche di colonne sonore, ricevette una telefonata dalla produzione e in quel momento lui era impegnato, Michel Legron, con delle tournée jazz, perché lui era anche jazzista, e Vladimir Cosma, che era il suo assistente, gli chiese se poteva fare la musica al posto suo. Ed è quello che è successo. E da lì è cominciata la sua carriera. Quindi questi sono i consigli che io do. E anche l'altro consiglio che do, che ho notato, che c'è poca preparazione, poca conoscenza su tutte le colonne sonore che sono state iscritte nel corso degli anni, soprattutto nel periodo degli anni 60, 70, 80, 90, dove secondo me ci sono i lavori musicali più interessanti mai scritti per il cinema. E vedo che questi giovani allievi non hanno una grande cultura in quell'ambito, quindi gli consiglio di ascoltare molta musica dei precedenti compositori che ci sono stati. Per colmare anche proprio questo gap artistico-temporale. Marco, prima di salutarti, allora un 2024 pienissimo, tra film e progetti per il cinema, regia, se vogliamo vedere anche il post del film spagnolo Ibris, che è stato presentato tra l'altro di recente a un festival in Spagna, grazie regia. Ecco, raccontaci, dacci un cenno di questo se vuoi, Marco, e anche quali sono i prossimi progetti cinematografici, soprattutto visto che adori il cinema e ti occupi di questo, che ti attendono? Guarda, Ibris è un film indipendente spagnolo, è la prima volta che lavoro con un regista spagnolo, e gentilmente lo mi ha invitato in Spagna per la prima del film, due settimane fa. Era a alcuni chilometri da Madrid, quindi sono andato con l'aereo a Madrid e poi ho preso un treno per raggiungere questo festival spagnolo. I prossimi progetti sono un film molto interessante di Roberto Lippolis, che parla tra l'altro di un compositore pianista direttore d'orchestra immaginario, che durante la seconda guerra mondiale aveva cercato di aiutare un suo amico ebreo musicista. E quindi la musica è molto importante in questo film. Poi c'è un film horror americano al quale ho già iniziato a lavorare con alcuni demo, e ci sono altri progetti, in particolare uno di Ovidio Sonitis molto importante, dove ci sono anche attori molto famosi nel cast. E poi non si sa mai cosa prospetta il futuro. Il nostro mestiere è un mestiere completamente in balia degli eventi che tu non sei a conoscenza finché non si avverano. È un rischio. Vi avrei molto coraggio per fare questo mestiere, perché non sai mai quello che succederà. Sono pienamente d'accordo con te, nel mondo dello spettacolo e del dietro le guinte in generale, quindi assolutamente anche nel tuo ambito. Marco, è stato un piacere, noi aspettiamo un altro mese con altri tre premi, perché ormai ci siamo abituati bene, quindi non ci possiamo. Eh, la sticella non la possiamo abbassare. E sono sicura che arriveranno. È stato un grande piacere, onore per me averti ospite in studio. E davvero, bocca al lupo per tutti i tuoi progetti che hai in programma. Grazie, grazie ancora Marco Vezza. Grazie a te tantissimo, grazie. Grazie a te tantissimo, grazie a te tantissimo, grazie a te.